Paura di non essere capita in sto mondo è la frase scritta su sfondo nero e sul profilo social della ragazza protagonista ieri mattina a Barletta di un triste gesto che ha lasciato sgomenti i compagni di classe, gli insegnanti e l'intera comunità barlettana. E' accaduto in un istituto superiore dove ieri mattina la giovane in un momento di disperazione ha lasciato l'aula e si è recata in bagno con l'intenzione di farsi del male. La studentessa che si è inferta a varie ferite è stata tempestivamente accompagnata presso il vicino ospedale Monsignor Di Miccoli. Restano ancora da definire le cause di tale gesto. Sempre sui social la giovane ha postato un'immagine dei suoi genitori accompagnata dalla frase mi dispiace.